ciao penso che maggior parte di noi vuole dimenticare la sofferenza dimenticare non tornare con pensieri eliminare è meglio non averla durante la vita e a volte si dice anche di cristianesimo perché siete così focussati sulla sofferenza io penso che no è un po come prendere uno un pezzettino di pane una briciola di pane che è caduta e dire questa ha un significato prendere qualcosa che è considerato non importante da eliminare e dire ma vedete anche qui siete in mani di Dio anche qui in questo momento potete essere e fare vedere questo tutto che è in dentro di voi la preciosità della persona la potere di fare vedere che siamo rimasti ancora umani e per cui non è qualcosa da eliminare ma guardare Gesù dice con la descrizione della sua sofferenza possiamo vedere vari tappi in quale è tradito soffre essere messo a parte è accusato di qualcosa che non ha fatto e picchiato è lasciato da tutte le persone soffre dolore e con queste ogni stagione ogni elemento della sua sofferenza possiamo vedere noi stessi e vedere chiedersi va bene cosa è in me ancora umano cosa posso fare per essere più umano Gesù fa noi vedere cosa significa in momenti di prova rimanere umano grazie